Ci sei quasi. Ci sei quasi per chi intraprende? È una frase... malandrina. Ecco, malandrina la definirei. Parlavo l'altro giorno con un paio di amici e tutti e due hanno fatto start-up che hanno venduto per milioni di euro. E tutti e due, in questo momento, sono lì con le occhiaie, felici ma super affaticati sul loro nuovo progetto. E se uno dentro di carattere non è uno che intraprende, non lo sa come funziona. E puoi immaginare che invece quando fai l'exit milionaria, hai soldi, sei a posto, a quel punto stai lì in piscina a fare il bagno. Invece non è così, perché se sei uno che intraprende, quella roba lì è per sempre. Ed è per questo che ci sei quasi è una frase che ti frega se ti fai prendere in quel loop lì. Perché presuppone che prima o poi ci sei, presuppone che prima o poi ci arrivi, invece non ci arrivi mai. Poi nel piccolo, per carità, raggiungi, no, un risultato, come dire, Federer arriva e vince Wimbledon. Ma poi è ci sei quasi, perché poi continua a giocare, c'è però adesso ci sei quasi al settimo slam del coso. È sempre una rincorsa, è un bersaglio mobile. Se sei uno che c'ha sempre la fregola di lanciare dei progetti suoi così, devi abituarti a vivere in quel contenitore lì. Comunque la giri sei sempre dentro a questo vortice del ci sei quasi, no? Corri, 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 ci sei quasi, raggiungi, poi ci sei quasi ancora. Fattene una ragione, Belén. E allora qual è la risposta vera? La risposta vera io l'ho trovata l'altro giorno andando in taxi all'aeroporto di Gatwick, che sta facendo questa pubblicità geniale. C'è un cartellone che dice Welcome to Almost There. Benvenuto a Sei Quasi Là. Non so, lo tradurrei così. Sei uno che intraprende? Benvenuto a Ci Sei Quasi. Ciao.